Gentili telespettatori, buona giornata. Viene fuori una notizia che io vedo assurda. Non la notizia, ma il contenuto della notizia. Il volontario del video con Giorgia Meloni è un nostalgico. Sui social foto del dittatore. Allora, che cosa succede? Che la Meloni va in giro in Emilia-Romagna e si ferma una macchina dove lei si avvicina. Erano andati a fare la spesa in una zona alluvionata a comprare qualcosa da mangiare dove sono riusciti a trovare aperto, eccetera, eccetera. E questo signore fa un video. Fa un video che poi mette sui social, diventa virale perché dice Ah, c'è qui la Meloni, bla 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 bla. Il video di questo Alberto Albonetti, volontario, suscita le polemiche perché sono andati a vedere, cioè, quelli di sinistra, sono andati a vedere chi era sui social questo volontario che ha fatto il video con la Meloni. La Meloni non sa minimamente chi sia questo signore, non sapeva neanche che si chiamasse né Albonetti, eccetera, eccetera. Questo volontario, sulle sue pagine social, è pieno di foto del dittatore con le solite frasi, credere, obbedire, tutte quelle robe lì, no? Che oggi è anche difficile vedere perché di solito i social censurano subito questo, eh. Attenzione, se voi andate su Facebook e mettete una foto del dittatore, slogan, ve li censurano subito e vi chiudono anche la pagina Facebook. Pertanto è anche difficile immaginare che questo signore possa avere tutti questi slogan e queste foto del dittatore. Beh, sicuramente vedrete che se il social era stato distratto, tutti quelli di sinistra che sono andati sulla pagina di questo signore l'avranno denunciato e vedrete che Facebook nel giro di poco gli chiuderà la pagina. Sicuro vedrete se non sarà così. Comunque, diciamo che questo Alberto Albonetti, chiamiamolo nostalgico, insomma oggi parlare di nostalgici fa un po' ridere, nel senso perché tu sei nostalgico di un qualcosa che hai vissuto. Oggi, nel 2023, una persona non la possiamo chiamare nostalgica, perché nostalgia di che cosa? Di un qualcosa che non hai mai visto. Sei nato negli anni settanta in un paese democratico e sei nostalgico di cosa? Che non hai visto nient'altro che democrazia. Ecco, pertanto non chiamerei neanche nostalgici questi qua, ma insomma non saprei bene neanche come definirli. Se uno si riempie il suo profilo di foto del dittatore con gli slogan, insomma, si definisce da solo. Ecco, questa è la realtà. Cioè, c'è bisogno anche di classificare... No, non c'è bisogno, ecco. Ma viene accusato oggi di essere un nostalgico. Contro di lui prove provenienti dal suo profilo social. E ci sono un sacco di articoli di giornale. Il primo, il video virale con Giorgia Meloni da Ghibullo. Un altro articolo. Albonetti accusato di essere nostalgico. Un altro articolo. Cosa ha detto il volontario dopo il video in Emilia Romagna. Poi, un altro articolo. Il volontario del video virale con Giorgia Meloni nostalgico. Punto di domanda sui soci e foto del dittatore, le accuse del dittatore. Ecco. La Meloni lascia in anticipo il G7 di Hiroshima. Torna, va in Emilia Romagna, senza dire esattamente dove va. Va in Emilia Romagna, fa il suo giro. E ha incontrato un volontario, Alberto Albonetti, parrucchiere di San Pietro in vincoli. Recatosi a Ghibullo per distribuire bene di prima necessità e aiutare con le operazioni di pulizia della zona. E' stato lui stesso a pubblicare sul suo profilo social per testimoniare la visita della Meloni. Immagini che poi sono state riprese anche dagli uffici di Palazzo Chigi. Lui dice, il volontario, Voi non crederete cosa abbiamo trovato a Ghibullo. Il sindaco non si è fatto mai vedere, però abbiamo trovato Giorgia Meloni. Siamo riusciti anche a stringerle la mano. Segue poi uno scambio di battute con la Meloni, che elogia il lavoro dei volontari, e poi posa con qualche foto assieme ad Albonetti e il figlio. E qua, la vicenda arriva anche nel programma di Floris, il programma di Martedì. E Repubblica ha iniziato a sollevare perplessità sul video diventato virale. Il primo dubbio riguarda la casualità della situazione. Viene fatto intendere che tutta la scena potrebbe essere stata organizzata. Quindi, avete capito un po' il giochino? Questo era uno che pubblicava foto del dittatore, trova la Meloni, fa un video, lo pubblica sul suo profilo, allora la Repubblica ipotizza che sia stato tutto programmato da questo sostenitore della Meloni per mettere sul suo profilo il video e fare propaganda. Ma come può pensare Repubblica che la Meloni possa essere d'accordo con uno che metteva tutte le foto del dittatore a fargli fare un video e metterlo sul suo profilo? Insomma, qui siamo proprio al ridicolo. Insomma, completamente al ridicolo. Naturalmente, queste cose finiscono addirittura nei programmi televisivi perché fanno argomento contro il governo. Però, Floris, insomma, portarmi questa storiella qua nel programma che parla di politica, insomma, non so, allora uno che incontra la Schlein fa un video, Schlein un selfie con un video di due minuti, lo pubblica sul suo profilo, poi si scopre che inneggia chissà quale criminale, allora la Schlein viene accostata e arriva il giornale che immagina che la Schlein magari lo abbia fatto apposta perché è a favore di quel criminale che quell'altro pubblica. Insomma, è realmente ridicola come cosa. Ecco, veramente, veramente ridicola. Diciamo che poi questo signore dice non mi sembrava vero, ho visto la Meloni e mi è preso un colpo, non si è mai visto il sindaco ma nemmeno Bonaccini ed è venuta lei. Ha poi aggiunto ho visto lei arrivare con gli stivali, si è avvicinata e ci ha fatto i complimenti per quello che stiamo facendo. Ci ha detto che siamo dei bravissimi ragazzi, che la macchina della solidarietà è bellissima, ci ha salutato, ci ha abbracciato, si è fatta fare la foto con il mio figlio, è andata a vedere anche altre famiglie, parole che queste le accuse avrebbero un tornaconto politico. Insomma, con questo si dimostra un po' il livello del giornalismo in Italia. Arrivederci a tutti e grazie.